Sicuramente il Carezza è qualcosa per tutti, soprattutto qualcuno che cerca tanto panorama, tante piste curate al massimo e soprattutto anche un panorama mozzafiato. Siamo in mezzo alle Dolomiti, abbiamo il catinaccio e il latte, ma proprio all'intorno e oltre allo sci si gode veramente delle giornate speciali proprio per il panorama. Quanti chilometri di piste? Abbiamo più di 40 chilometri di piste, tra cui 4 piste nere, suddiviso su tutto il comprensorio, però la particolarità di questo comprensorio è che si riesce ad arrivare da un punto, dai due punti più estremi, è tutto collegato con delle piste rosse e blu, quindi tutti riescono a passare, oltre a passare tutto il comprensorio. C'è ovviamente l'imbrazzo della scelta per chi desidera scendere da questi monti fantastici, c'è anche però un anello di fondo ideale per chi vuole praticare questo tipo di specialità. Sì, abbiamo poi quest'anno lo fondo l'abbiamo curato ancora di più perché svolgiamo il meeting interbancario che sono gli europei dei bancari che svolgono anche delle gare di fondo, quindi quest'anno abbiamo curato questo anello ancora in modo molto più professionale quando ovviamente c'è neve naturale abbastanza. Quali eventi più importanti rappresentano per carezza un momento anche di visibilità, insomma da diversi anni scommettete in modo importante soprattutto sullo snowboard? Sì, abbiamo colto questa occasione della Coppa del Mondo di snowboard che ovviamente nel periodo pre-natalizio le gare di sci alpino dai nostri colleghi in Alta Badia e Val Gardena attirano molta attenzione e per noi è un'occasione molto utile per svolgere un evento di altissimo livello che è la Coppa del Mondo di snowboard e abbiamo quest'anno suolto già l'ottava edizione. La tipologia degli ski pass perché è possibile sciare ovviamente in questo comprensorio ma anche attraverso diverse tipologie di ski pass plurigiornalieri anche nelle piste vicine della Val di Fassa. Esatto, noi facciamo parte del consorzio Fassa Carezza all'interno dell'Olomiti Superski quindi col plurigiornaliero di Carezza e Fassa si scia fino al Pordoi volendo fino verso il Sella e ovviamente anche qua Carezza o se no ovviamente sempre l'opzione Dolomiti Superski dove si riesce poi a sciare in tutti i comprensori del Dolomiti Superski. In questi anni avete investito molto per rendere sempre più moderno l'insieme degli impianti e so che insomma ci sono altri progetti in divenire. Sì, abbiamo investito tanto negli ultimi dieci anni, vorremmo investire altri tanti soldi anche nel futuro per ottenere sempre più quello che il nostro cliente chiede, aumentare la qualità e svilupparci nel modo migliore. Impianti che sono chiaramente fondamentali in inverno ma che lavorano anche d'estate perché queste montagne anche in estate possono essere vissute in maniera davvero speciale con questi impianti che portano facilmente in quota. Sì, noi stiamo lavorando già in modo molto bene o diciamo discreto d'estate anche perché storicamente è una zona molto pregiata e adatta per escursionisti e per cui stiamo puntando proprio sul divertimento, diciamo sul vivere la montagna tutto l'anno, su tutto l'arco dell'anno di ovviamente spostarci anche in un attimo o di limitare un po' i rischi del meteo che possono essere sia d'inverno che d'estate, diciamo di avere le stagioni più lunghe e quindi essere in quel senso più sostenibile sui nostri investimenti. Per chiudere possiamo dire che questo è un luogo affascinante, Nuova Levante vi raccontavi grande storia, grande tradizione ma soprattutto anche da un punto di vista naturalistico il lago di Carezza che sicuramente è uno dei luoghi più belli in assoluto di questo territorio. Sì, è proprio così, è proprio quello che stiamo puntando tantissimo sulla sostenibilità proprio di lavorare in modo diciamo ecologico abbiamo sviluppato e portato avanti vari progetti già in passato stiamo continuando a sviluppare questi progetti sulla sostenibilità abbiamo aderito al patto della clima naturalità che praticamente stiamo lavorando sul diminuire il CO2 e quello che ovviamente una parte non si riesce mai a evitare viene compensata con degli progetti che vengono a favore del clima mondiale e quindi su tutte queste cose stiamo lavorando per poter raccontare ai nostri figli che abbiamo cercato di fare le cose giuste. Grazie 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 Grazie.